Il tema della seconda puntata del Maurizio Costanzo Show è stato il rapporto tra genitori e figli. In studio, tra gli altri ospiti, anche Vittorio Sgarbi con il figlio Carlo Brenner. Il critico d'arte ha prima provato a corteggiare Belen Rodriguez regalandole persino il suo libro, ma la showgirl argentina era poco impressionata dalla sua fama di sciopafemmine e poi ha perso il controllo quando è arrivato il momento di confrontarsi con il figlio. Sgarbi infatti dice di non aver mai desiderato la paternità. Carlo allora ha controbattuto al padre dicendo Lui parla ma scorda di aver avuto tre figli, ovvero me e le due sorelle. Non penso che si facciano i figli per caso. Scattato l'applauso a favore del ragazzo, Sgarbi ha rincarato la dose con affermazioni molto forti. Basta applausi, non capite niente e tu Carlo non capisci niente. Io i figli li ho avuti ma voglio morire senza essere stato padre perché non l'ho mai desiderato. Tu, Carlo, rivolgendosi al figlio parli senza cognizione e devi certamente recuperare i tuoi applausi. Questi che battono le mani, conclude, dovrebbero andare tutti a quel paese.